ciao a tutti amici di or2b come state oggi ci troviamo nella zona di albany in un parco nazionale in prossimità di albany sempre nel southwest australia sono qui con una una pianta meravigliosa un arbusto di nome panxia coccinia appartiene alla famiglia delle proteacee delle proteacee che è molto diffusa qui in australia questa pianta si distribuisce ed è endemica del southwest australia in particolare da denmark a esperas che sono due cittadine nel southwest australia è davvero meravigliosa ha questa caratteristica di avere i fiori rossi con i dali diciamo ed è impollinata da insetti ma anche uccelli uccelli che si cibano del nettare ma anche sono uccelli che in generale si nutrono di insetti e qui sono chiamati questi uccelli honey eaters ovvero mangiatori di miele proprio perché sono attratti dalla sostanza zuccherina dal nettare di questa bansia ma anche di altre specie di bansia bene noi continuiamo le nostre esplorazioni qui in questo angolo meraviglioso e vediamo se ci attendono altre fantastiche specie di flora ciao a presto a presto